Francesco Andrea Facchinetti è un conduttore televisivo, cantautore, disc giochi, imprenditore, agente dello spettacolo e procuratore sportivo italiano, occasionalmente attore e doppiatore di film d'animazione. Dagli esordi della carriera fino al 2006, era noto con l'appellativo DJ Francesco. Lady Facchinetti, la moglie del popolare cantante e produttore, è stata dimessa dall'ospedale Sant'Anna Cantù di Como dopo un brutto incidente a cavallo. La notizia dell'incidente è aperto. E però, un vero e proprio caso sul trattamento che la modella avrebbe ricevuto nel primo ospedale al quale si era rivolta. Quello di Desio. A raccontare l'accaduto è stata Vilma Faisola attraverso i suoi canali social subito dopo la caduta da cavallo. Walli è inciampato sono volata giù, e mi ha investito. Il mio casco si è staccato e la zoccolata è arrivata dritta in testa. Ha spiegato la moglie di Francesco Facchinetti, mostrandosi nelle storie della sua pagina Instagram, con un taglio sul mento e ghiaccio sulla testa. La Faisola ha lamentato vertigini e nausea e preoccupata per il colpo ricevuto alla testa. Dove si era aperta anche una ferita. Si è recata al pronto soccorso di Desio per ricevere le prime cure.